Se volete creare un nuovo account ePassan Manager, iniziate digitando ePassan Manager nella barra di ricerca del vostro browser. Andare all'UrlyPassan. Come cliccate sul pulsante Crea un account quando si apre la nuova pagina. A questo punto, inserite tutti i dati richiesti, tra cui il vostro indirizzo e-mail e una password. A questo punto, è necessario inserire anche il numero univoco di uno dei controller Ipassan. Quindi fare clic su Salva. A questo punto, cliccate su OK e procedete ad aprire la casella di posta elettronica associata al nuovo account. Aprite l'e-mail di registrazione di Ipassan Manager e cliccate sul link allegato per verificare il vostro account. Questa operazione potrebbe richiedere circa 10-15 secondi. Una volta terminata l'operazione, fare clic sull'opzione OK per proseguire con la pagina di accesso. Infine, inserite i vostri dati utente e cliccate sul login. Apparirà la schermata iniziale che indica che avete creato con successo il vostro nuovo account, Ipassan Manager. Grazie. 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 Grazie.